Il proposito è quello di cercare di rendere semplice qualcosa che è abbastanza complesso e che a volte mette in crisi non soltanto le persone, perché il trauma cranico in genere genera ansia, ma a volte mette in crisi anche per esempio i medici del pronto soccorso, insomma perché li costringe a prendere delle decisioni che magari non sempre sono le più opportune, ma insomma c'è sempre il timore di aver trascurato qualcosa, di aver sottovalutato qualcosa, di qualche complicazione. Allora cerchiamo di vedere l'argomento nel suo insieme. La scatola cranica è una scatola, quindi un contenitore rigido che contiene la massa cerebrale, che è la struttura diciamo così più delicata del nostro corpo, di più risente di eventuali lesioni, perché anche il suo tessuto difficilmente riesce a ricrescere, una volta che è danneggiato il danno rimane, mentre altri tessuti si riformano, altre cellule si ripristinano, quelle cerebrali in linea di massima non lo fanno. Quindi siamo i presenti di una scatola ossea, rigida, che è riempita completamente da un tessuto che è quello cerebrale, è il cervello. Questa scatola non è completamente uguale in tutte le sue parti, non è una palla, ma è formata da una volta, cioè da una parte superiore, quella che sta più in alto, è liscia al suo interno, insomma ha una superficie, diciamo, che possiamo definire liscia. La parte invece basale, la base del cranio, ha una forma irregolare, cioè è formata di tante ossa diverse che determinano poi quelle che si chiamano delle fosse, e ci sono delle asperità, ci sono delle irregolarità. Perché serve sapere questo? Perché se il cervello va, in risposta a un trauma, va a sbattere contro una superficie liscia, il danno che ne riceve può essere più lieve. Se invece va a battere, va a urtare, va sotto la spinta, sotto l'energia, dovuta al trauma, va a urtare contro una superficie irregolare, più facilmente subisce dei danni, subisce per esempio delle lacerazioni, dei danni. Primo punto, scatola ossa chiusea, che non si può allargare, insomma, no? Che non si può deformare. Quella è un cervello che la riempie in maniera praticamente completa, cervello, poi, sappiamo che nel cervello ci sono i ventricoli, c'è il licor cerebrale, sono tante cose, ma lasciamo perdere, arriviamo ai concetti fondamentali. Tutto quello che poi potrebbe far aumentare il volume all'interno di questa scatola cranica è qualcosa che è destinato a creare sofferenza nel cervello, sofferenza o danno al cervello. La natura dei traumi cranici è molto varia, è inutile che la ricordiamo, perché sarebbe solo una perdita di tempo, ma distinguiamo nei traumi cranici due categorie principali, cioè dei traumi aperti, che sono dei traumi in cui la scatola ossea in qualche modo viene rotta, si forma per esempio una frattura con affondamento, cioè le ossa penetrano all'interno della scatola cranica e quindi le ossa stesse possono dannezzare il cervello e nello stesso tempo attraverso questa apertura che si può creare tramite il trauma nella scatola cranica, germi possono raggiungere il cervello, quindi si possono creare dei focolai di infiammazione, un'infezione al cervello. Si verificano poi dei traumi chiusi, in cui non c'è una rottura della scatola che contiene il cervello, ci possono essere però delle fratture, ma senza soluzione di continuità, senza che quindi il cervello, il contenuto all'interno di questa scatola possa ricevere un insulto da parte di eventuali germi oppure lacerazioni legate al fatto che l'osso va a dannezzare direttamente il tessuto cerebrale. Quindi due tipi di danno, due tipi di trauma cranico, traumi aperti, con soluzione di continuità della scatola ossea, e traumi chiusi, con possibile frattura anche della scatola ossea, ma senza soluzione di continuità. Non tutti i traumi cranici hanno la stessa gravità. Troviamo dei traumi abbastanza banali, immediatamente o apparentemente non hanno conseguenze, e quindi nei confronti dei quali non è necessario fare niente, possono chiamare un certo malessere, possono dare dei disturbi successivamente, ma sono traumi benigni e sono la gran parte. Poi ci sono invece dei traumi maggiori, cioè dei traumi più grossi, che determinano delle conseguenze invece dirette, più o meno immediate, nei confronti del contenuto della scatola cranica, cioè del cervello. Il cervello, quando, diciamo, si subisce un trauma maggiore, viene dannezzato in qualche modo, insultato, ne riceve delle conseguenze, e queste conseguenze sono di alcuni tipi possibili. Già questa suddivisione tra traumi maggiori e traumi minori comporta delle differenze importanti dal punto di vista clinico. Il trauma minore, per esempio, al momento non rappresenta un pericolo per il paziente. Chi subisce questo trauma minore non ha bisogno né di cure, né di indagini molto molto particolari. Quello che ci preoccupa in pazienti che hanno subito un trauma cranico minore è la possibile evoluzione di questo trauma, il fatto che possa avvenire un aggravamento successivo che poi potrebbe dover richiedere dei provvedimenti, e questi provvedimenti potrebbero anche diventare di tipo chirurgico. Perché ci preoccupa questo? Perché ci sono degli eventi che, se non vengono riconosciuti in tempo, e se magari non vengono operati in tempo, possono creare o delle lesioni permanenti, o addirittura portare alla morte. Quindi il trauma cranico minore non ci preoccupa molto, non rappresenta un particolare pericolo nel momento in cui avviene o subito dopo, ma dobbiamo essere attenti all'evoluzione di questo evento, a un possibile aggravamento successivo. I traumi cranici maggiori, invece, pongono un problema diverso, pongono la necessità di provvedimenti immediati, sia di tipo diagnostico, sia di tipo terapeutico, e quindi questi provvedimenti vanno poi praticati in ambiente ospedaliero, insomma, in ambiente adatto. Quindi i traumi cranici maggiori necessitano di accertamenti e cure immediate. I traumi cranici minori no, possono non necessitare di nessuna cura, neanche di, come vedremo dopo, neanche di esami particolari, però necessitano di una sorveglianza, di un'attenzione da parte di chi sta accanto al traumatizzato nei giorni o nel periodo successivo. Quali sono le possibili conseguenze che si possono verificare quando subiamo un trauma cranico? Si possono essere delle fratture, e queste fratture possono riguardare l'osso, ovviamente no, sia della base cranica, sia della volta cranica. Queste due fratture danno segni anche diversi, vedremo dopo. Quindi possibili fratture delle ossa della scatola cranica, della volta o della base. Un'altra conseguenza è la commozione cerebrale. La commozione cerebrale non è altro che una transitoria perdita di coscienza che avviene dal momento immediatamente successivo al trauma e che in genere è di breve durata, in genere di pochi minuti, comincia ad essere preoccupante se dura più di sei ore. La commozione cerebrale non lascia di per sé dei residui, è dovuta a un danno funzionale di una struttura cerebrale, insomma del tronco cerebrale, senza che questo danno funzionale, cioè della sua funzione, in modo funzionale, corrisponda a un danno anatomico. Quindi è una situazione transitoria e completamente reversibile che non lascia esiti, non lascia segni di danno. Un'altra possibilità, diciamo meno frequente, ma che riguarda certi particolari tipi di trauma cranico, in genere dovute a succussioni ripetute. Noi le vedevamo spesso, per esempio, dopo certe cadute con gli sci, negli sciatori, per esempio, è l'amnesia globale transitoria. Cos'è? Il traumatizzato cranico si riprende, ma ha un periodo in cui è un po' confuso, in cui non riesce a fissare i ricordi immediati, cioè ha un deficit della memoria di fissazione. E si chiede cosa è successo, dove sono, che mi è capitato. Rimane così, in questo stato un po' strano, spesso ripete continuamente le stesse domande, comenta a chiedere, si è un po' agitato, e per alcune ore, a volte per alcuni minuti, a volte per alcune ore, ma in genere meno di un giorno. E anche questa situazione qua, quando viene riconosciuta, diciamo così, è una situazione che esprime un danno funzionale, cioè non corrisponde a questa situazione, è un danno anatomico. È una situazione che non ci preoccupa particolarmente, ma che deve essere sorvegliata e che deve essere riconosciuta. Amnesia globale transitoria. Un'altra conseguenza, un altro danno invece, questo importante, che si può realizzare nel cervello in seguito di un trauma, di un trauma importante, quindi di una bella botta che si prende nella testa, è la contusione cerebrale. La contusione cerebrale invece rappresenta un danno anatomico del tessuto cerebrale. Cosa vuol dire contusione? Vuol dire un focolaio di necrosi emorrazica, cioè morte di cellule cerebrali ed emorrazia nella sede della contusione. Le contusioni, quindi, sono delle, diciamo, lacerazioni più o meno grandi del tessuto cerebrale, che avvengono soprattutto in quella parte del cervello che è appoggiata sulla base cranica, perché abbiamo detto che la base cranica è una parte irregolare dell'osso, è particolarmente irregolare e quindi più facilmente quando il cervello si viene scosso, c'è una succussione del tessuto cerebrale sopra quella superficie, nel tessuto cerebrale si creano più facilmente dei danni. Contusioni cerebrali sono dei focolai di necrosi emorrazica. Le contusioni cerebrali possono essere uniche oppure possono essere anche multiple, possono essere tanti focolai di necrosi emorrazica e quindi tante contusioni cerebrali. Perché sono importanti questi danni? Immediatamente o subito dopo il trauma a volte non si vedono molto anche quando si fa l'attacca insomma subito dopo il trauma, ma si vedono sempre più nelle ore e nei giorni successivi e soprattutto tendono a crescere, tendono ad aumentare nei giorni successivi e tendono anche a dare un grosso rigonfiamento del cervello intorno al focolai, dentro e intorno al focolaio contusivo, per cui il cervello di conseguenza, specie se i focolai di contusione sono molti, tende a rigonfiarsi sempre di più e siccome abbiamo detto il cervello è contenuto in una scatola rigida, chiusa, ne succede che non c'è spazio, no? Quando si gonfia aumenta la quantità di liquido all'interno, il cervello diventa più più grosso, diciamo così, non ha spazio per allargarsi e quindi aumenta la pressione all'interno del cervello stesso, no? Quindi c'è una, quella che si chiama una ipertensione endocranica e l'aumento della pressione all'interno del cervello di questa scatola chiusa crea di per sé dei danni. Uno di questi per esempio è il fatto che il sangue per arrivare al cervello, il cervello ha molto bisogno di sangue, diciamo, deve vincere una certa pressione, no? Se la pressione all'interno del cervello aumenta il sangue fa più fatica a derivare al cervello stesso, quindi il cervello poi diventa, rischia di diventare meno perfuso che di ricevere meno sangue. se è meno perfuso la sofferenza tende ad aumentare, quando soffre tende ulteriormente a rigonfiarsi e quindi tendono a crearsi dei circoli viziosi. Inoltre, diciamo, l'aumento del rigonfiamento cerebrale se è localizzato per esempio in una parte del cervello tende a spingere quella parte contro l'altro, cioè tende a cercare degli sfoghi, tende a invadere lo spazio occupato dall'altro emisfero cerebrale. Si può creare una situazione particolarmente grave che si vede in certe situazioni quando una parte del cervello tende a erniare attraverso delle strutture rigide quale può essere per esempio il tentorio che è una membrana che separa il cervelletto dagli emisferi cerebrali. Ernie di questo tipo determinano per esempio poi una compressione sul tronco cerebrale dove ci sono i centri respiratori. Una conseguenza possibile di un grave trauma cranico che determina contusioni importanti del cervello possono essere seguiti possono essere complicati da un'ernia di una parte stessa del cervello attraverso il tentorio che va a comprimere e va diciamo così a dannezzare il flusso di sangue che deve arrivare al tronco cerebrale. Questa situazione è una situazione molto grave una complicazione molto grave che può essere mortale e si chiama impegno cerebrale impegno perché c'è un andale di una parte del cervello in una zona spinto dalla pressione in una zona dove non dovrebbe andare e lì determina fenomeni di compressione e fenomeni poi di dischemia di danno alla vascolarizzazione. Poi ci sono gli ematomi cerebrali gli ematomi cerebrali invece sono delle raccolte di sangue che si formano nel cervello in seguito a un trauma. Gli ematomi cerebrali comunque sono di due tipi sostanzialmente sono l'ematoma extradurale acuto e l'ematoma extradurale acuto in genere si verifica per una frattura che interessa la squama del temporale dove passa un'arteria l'arteria menenzia media questa frattura determina la rottura di questa arteria e il sangue strabasa tra l'osso diciamo così e il cervello in questo modo si crea una quantità di sangue una raccolta di sangue che spesso diventa anche molto importante che va a comprimere e a spingere molto il cervello e anche questa situazione si può complicare con con quella situazione che vi dicevo prima che può determinare un impegno quindi un'ernia transtentoriale poi c'è un'altra evenienza molto molto grave spesso mortale di traumi particolarmente gravi importanti che è il danno la sofferenza il rigonfiamento assonale diffuso cioè più che non dei focolai di necro e delle rassalazioni il cervello riceve un danno acuto talmente importante che soffre tutto nel suo insieme e questa sofferenza che riguarda soprattutto gli assoni determina un rigonfiamento determina un edema molto importante massizzo di tutto il cervello e questo fa sì che gonfiandosi la pressione all'interno del cranio aumenta in maniera omogenea in maniera assolutamente importante tanto da impedire la perfusione cerebrale il sangue dalle carotidi non riesce più ad avere la pressione sufficiente a vincere la pressione che c'è all'interno del cervello per poter irrorare il cervello quindi si forma un'anossia cerebrale la mancanza di ossigeno il cervello non è perfuso non ci arriva sangue e si gonfia ancora di più e il circolo vizioso spesso determina una situazione mortale quando in questi casi quando si fa una carotidografia o si faceva una carotidografia si vedeva che il mezzo di contrasto che veniva iniettato in carotida a un certo punto si fermava non riusciva a perfondere poi le arterie cerebrali e quindi le conseguenze ripetendo le lesioni cerebrali sono l'edema cioè l'edema vuol dire l'aumento della componente acquosa la cellula del cervello quando soffre tende a gonfiarsi tende ad aumentare la sua componente acquosa quindi edema e rigonfiamento cerebrale aumento quindi della pressione all'interno del cranio il possibile impegno o ernia transtentoriale a tutto questo consegue un nei traumi con lesioni cerebrali consegue il coma cioè la perdita delle funzioni cerebrali il coma può essere di varia gravità di varia entità ci sono vari modi vari criteri per distinguere i vari tipi di coma però insomma sostanzialmente è un venir meno delle funzioni cerebrali quindi dello stato di coscienza della vigilanza dell'orientamento ci può essere una perdita delle funzioni corticali cioè della cortezza cerebrale oppure una perdita delle funzioni del tronco cerebrale nel tronco cerebrale ci sono per esempio i centri respiratori i centri della vigilanza insomma in qualche modo quindi il coma è più profondo se l'interessamento se la sofferenza riguarda anche il danno riguarda anche il tronco cerebrale in quel caso lì può esserci la perdita della capacità di respirare e può essersi una grave perdita della della vigilanza insomma un paziente non si sveglia più o non si sveglia insomma quindi abbiamo visto che le fratture che possono riguardare le ossa del cranio ovviamente il cervello è un tessuto che non è che si frattura si può lacerare ma le fratture riguardano l'osso le fratture quindi possono riguardare le ossa della volta cranica le ossa della base cranica la frattura può essere affondata e quindi c'è una frattura con affondamento e quindi i frammenti dell'osso penetrano nel tessuto cerebrale e c'è una soluzione di continuo quindi possono entrare anche germi la frattura della squama del temporale dell'osso temporale della squama del temporale può essere particolarmente a rischio perché a questa può succedere una lesione dell'arteria amenizia media e quindi quella che dicevo prima provocare un ematoma extra durale che in genere è acuto cioè avviene nelle prime ore o nei primi giorni immediatamente successivi al trauma ma in genere si tratta di un trauma con frattura quindi di un trauma che viene tenuto sotto sorveglianza come si valutano è chiaro che un paziente traumatizzato se il trauma cranico è minore è un paziente che arriva con le sue gambe che quindi cammina parla e con quale si può diciamo interagire e quindi lo si può visitare normalmente come un neurologo visita un normale paziente se invece il paziente arriva in coma come come si valuta come si valutano le condizioni neurologiche e soprattutto la valutazione serve poi ad avere poi dei criteri prognostici a capire quale può essere il destino del traumatizzato c'è una una scala che si chiama Glasgow Score che serve per valutare la gravità di un di un trauma cerebrale del danno prodotto da un trauma cerebrale questa scala è semplice nel senso che la può applicare chiunque perché fondamentalmente tiene conto di alcuni parametri semplici e questi parametri sono l'apertura degli occhi capacità del paziente di parlare quindi le risposte verbali e poi la motilità la capacità di movimento del paziente questa scala è tale perché ci può formire un punteggio questo punteggio diciamo così più è basso più è grave la condizione del paziente questo punteggio va da 3 a 15 quindi diciamo 3 vuol dire che le condizioni del paziente sono quasi disperate 15 vuol dire che praticamente il trauma non ha dato nessuna conseguenza come può essere l'apertura degli occhi il paziente può aprire gli occhi spontaneamente quindi possiamo osservare che lui guarda e apre gli occhi spontaneamente oppure tiene gli occhi chiusi ma noi gli diciamo apra gli occhi e lui esegue il nostro ordine gli apra oppure li può aprire soltanto se noi gli forniamo uno stimolo doloroso lo andiamo a stimolare a stuzzicare lo pizzichiamo in qualche modo oppure può non aprire gli occhi comunque qualsiasi cosa gli chiediamo o facciamo allora se lui non apre assolutamente gli occhi il punteggio è uno se lui li apre perché gli diamo uno stimolo doloroso il punteggio è due se lui li apre perché gli diciamo di aprire il punteggio è tre se li apre spontaneamente il punteggio è quattro poi si guardano le risposte verbali cosa vuol dire vuol dire che il paziente può parlare spontaneamente e può dire delle cose ed essere orientato nelle cose che dire capiamo che parla a tono insomma no sa dove si trova sa che giorno è e così via oppure gli facciamo delle domande ma lui è confuso non sa dov'è ti racconta delle cose che non ci sono però è capace di rispondere alle domande oppure può dare soltanto delle risposte completamente inadeguate oppure può è capace di pronunciare solo qualche parola ogni tanto insomma qualche parola così disarticolata senza senso ogni tanto l'altra possibilità è che borbotti soltanto qualcosa di incomprensibile l'altra possibilità è che non sia capace di pronunciare nessuna parola né allo stimolo né al dolore quindi né alla richiesta di parlare anche qua il punteggio quando non parla cioè non siamo capaci di ottenere dalla paziente nessuna risposta verbale il punteggio è 1 e gradualmente in su fino a 5 quando ci risponde normalmente in maniera orientata l'altra cosa che si va a guardare è sono le risposte motorie il movimento si comincia dalla cosa più semplice no? gli si chiede di muovere il braccio di alzare un braccio di 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 aprire la bocca ecco gli si dà un comando e si vede se esegue questo comando qui il punteggio è quello più alto quando lui da esegue esattamente il comando il punteggio è 6 poi se invece non esegue nessun movimento su comando proviamo a dargli uno stimolo doloroso e cerchiamo di vedere se risponde in maniera adeguata a questo stimolo cosa vuol dire? vuol dire che quando uno ti pizzica tu cerchi di andare a tirargli via la mano che ti pizzica no? quindi questa è una reazione è una risposta adeguata cioè con un movimento finalizzato al dolore in questo caso il punteggio è 5 se non fa questo potrebbe cosa fare? potrebbe muovere in maniera tale da tirar via l'arto che viene stimolato che viene pizzicato tirarlo via dalla mano che lo pizzica no? quindi retrarsi tirarsi via dallo stimolo doloroso e la risposta è 4 sei capace di fare questo oppure risponde in maniera atipica al dolore anomala cioè per esempio risponde tu lo pizziche e lui risponde con una flessione così degli arti no? che si chiama postura decorticata ma insomma risponde in maniera anomala in flessione l'altro modo diciamo che è un segno pronostico più grave è se invece di rispondere in flessione risponde in estensione questa risposta qua si fa pensare che ci sia un danno a livello del tronco cerebrale oppure che non risponda in nessun modo ecco allora sommando il punteggio ripeto delle varie prove apertura degli occhi risposte verbali risposte motorie si può avere un punteggio variabile che va da 3 a 15 15 bene non abbiamo preoccupazioni diciamo così di sorte uno diciamo che prognosticamente è molto molto grave ci preoccupa molto il fatto che possa sopravvivere a questo trauma le risposte diciamo così che sono che ottengono un punteggio inferiore a 8 il punteggio inferiore a 8 nel Glasgow score tipicamente è considerato come coma quindi insomma a definire anche la profondità del coma si serve anche il punteggio del Glasgow quando il punteggio è al di sotto di 8 quindi da 3 a 8 il paziente è in coma tra le lesioni che interessano l'interno della scatola cranica dopo un trauma si possono essere gli ematomi ematomi post-traumatici l'ematoma cos'è? è una raccolta di sangue che in questo caso è all'interno del cervello all'interno di una scatola chiusa che è già piena di per sé perché contiene il cervello se ci aggiungiamo un altro corpo estraneo come in questo caso è il sangue la pressione aumenta e soprattutto la raccolta di sangue tende a spingere tutto il resto del cervello dall'altra parte allora gli ematomi diciamo principali che non interessano dall'interno la massa cerebrale ma stanno tra l'osso e il cervello sono due di due tipi ematoma extra-durale che appunto di solito avviene per la rottura di quell'arteria meningia media che dicevo ed è un'evenienza grave che potenzialmente può avere un'evoluzione rapida e quindi richiede provvedimenti spesso neurochirurgici urgenti questa diciamo è l'evenienza che è più temibile perché diciamo all'interno di questa evenienza si può decidere di salvare completamente la vita del paziente e anche di riportarlo in una condizione senza esiti diciamo così oppure il paziente potrebbe anche morire se non si interviene per tempo se non se lo riconosce per tempo quindi l'ematoma extra-durale è una cosa che mette un certo grado di allarme che giustifica un certo grado di allarme l'altro evento invece è l'ematoma sub-durale che sta al di sotto della dura il meccanismo è un po' diverso e comunque è un evento che si realizza in genere più tardi in tempi successivi che ha un'evoluzione più lenta e che quindi richiede un trattamento chirurgico potrebbe richiedere un trattamento chirurgico ma diciamo lascia un margine di tempo maggiore c'è meno urgenza nell'ematoma sub-durale è però un'evenienza che bisogna sospettare come dirò dopo soprattutto in determinate situazioni e quindi anche questa diciamo così crea un determinato tipo di allarme perché è una possibilità c'è questa possibilità che si realizza un qualcosa che all'inizio non c'è ma che in un tempo successivo al trauma che potrebbe essere anche di giorni o settimane potrebbe realizzarsi e che quindi bisognerà saper cogliere in tempo nel momento in cui si dovesse realizzare e anche capire in quali situazioni quali sono i fattori di rischio che si possono far temere che in un tempo successivo si realizzi un evento di questo tipo l'ematoma subdurale non è di origine arteriosa come l'extradurale ma è in genere di origine venosa il trauma determina lo strappamento di certe piccole vene corticali a ponte nella parte superiore di solito del cervello e quindi è un qualcosa che si realizza con più lentezza e con minore drammaticità l'ematoma subdurale può essere abbastanza acuto quando diciamo lo si vede o compare entro quattro giorni nei primi quattro giorni subacuto quando compare l'ai quarto al decimo giorno cronico quando compare dopo dieci giorni l'altrauma ci sono fattori di rischio che predispongono certi traumatizzati a sviluppare un ematoma subdurale sì l'etilismo per esempio riguarda soprattutto persone anziane soggetti con alterazioni della coagulazione del sangue soggetti in cattive condizioni generali etilisti anche perché crea anche un certo allarme perché a volte si vede la comparsa di un ematoma subdurale anche dopo un trauma abbastanza banale quindi in persone che sono a rischio in questo senso anziani soggetti con alterazioni della coagulazione etilisti soggetti malmessi a volte basta anche un trauma abbastanza banale per far comparire un ematoma subdurale e ha un'evoluzione abbastanza subdura insomma la prima fase dell'evoluzione non avviene senza dare segni molto evidenti insomma è sopportata abbastanza bene pensiamo così per cui non mostra segni clinici particolari che ti dicono ecco c'è l'ematoma subdurale insomma no avviene evolve in maniera subdura fino a un certo punto quando poi si può mostrare anche in maniera grave in maniera importante e quindi bisogna poterlo sospettare comunque la gran parte dei traumi cranici quelli che poi anche giungono al punto soccorso sono traumi cranici minori sono traumi cranici banali insomma la botta in testa che si prende in qualche modo il piccolo incidente automobilistico insomma la caduta insomma spesso sono traumi cranici minori sono traumi piccoli e in questi traumi cranici minori cosa ci deve preoccupare abbiamo detto ci deve preoccupare l'eventuale comparsa di complicanze cioè dobbiamo chiederci qual è il rischio che questo trauma possa creare o aver creato un danno cerebrale magari subito l'esame neurologico è negativo non ci sono segni di danno però questo danno potrebbe avvenire in seguito allora dobbiamo chiederci cosa ci possiamo aspettare e quali sono i segni che ci devono mettere in allarme allora potremmo esserci due cose ci interessano soprattutto questo è un po' il frutto di un'esperienza clinica insomma che magari non tutti sanno due cose ci devono mettere banale ma utile a sapersi due cose dobbiamo andare a vedere se c'è una frattura del cranio e se com'è lo stato di coscienza no come può essere lo stato di coscienza in genere sono malati che arrivano con le loro gambe tra amici minori in pronto soccorso no allora potrebbero essere diciamo lo stato di coscienza potrebbe essere orientato oppure disorientato no non detto prima cosa si intende per orientato e disorientato e in più l'altra cosa che dobbiamo guardare è se c'è una frattura del cranio quindi la frattura potrebbe essere presente oppure non c'è frattura tener conto di questi due parametri ci fa dire qual è statisticamente il rischio di complicanze allora se siamo di fronte a un malato che è orientato e non ha frattura quindi non ha fratture del cranio ed è orientato il rischio che in un tempo successivo possa avere manifestare insomma si possa produrre un danno al cerebrale perché è quello che poi ci interessa è minimo cioè uno su sei mila quindi è un rischio minimo trascurabile quasi quindi se non ci sono fratture e il malato è orientato e potrebbe avere avuto anche una breve perta di coscienza post-traumatica ma si è recuperato subito arriva con le sue gambe in pronto soccorso non ha segni neurologici possiamo stare tranquilli insomma nella grandissima parte dei casi perché soltanto in uno su sei mila potrebbe manifestare delle complicanze successivamente se invece non ha frattura ma è disorientato quando arriva in pronto soccorso allora la possibilità di complicazioni aumenta molto diventa uno su cento ventuno non è elevatissima ma non è neanche uno su sei mila insomma è una situazione che si deve tenere in considerazione il disorientamento insomma quando anche senza fratture l'altra evenienza è che il malato abbia una frattura cranica se ha una frattura cranica parlo soprattutto delle ossa della volta perché la frattura delle base è già un'evenienza più più importante di cui tener conto ma insomma se non ha frattura della volta cranica e non ha segni di frattura della base cranica se il malato è orientato il rischio di complicazioni future è uno su trentadue se non è orientato invece quindi frattura e disorientato il rischio di complicanze cerebrali endocraniche insomma in questo caso soprattutto di amatoma subdurale è di 1 a 4 quindi un caso su 4 potrebbe complicarsi quindi la probabilità di danno è molto maggiore tenendo conto di questo possiamo dire che un trauma cranico minore è a bassissimo rischio di complicanze quando è orientato e non ha fratture ha un rischio intermedio di circa 1 su 100 di complicanze quando o ha fratture e orientato oppure non ha fratture ma è disorientato e ha un alto rischio di complicanze 1 a 4 quando ha fratture ed è disorientato quando arriva in pronto soccorso per i malati a bassissimo rischio di complicanze che poi sono la grande maggioranza insomma dei traumatizzati che entrano in pronto soccorso per fortuna quindi sono orientati e senza frattura ecco per questi malati non servono cure e di solito non serve neanche il ricovero ospedaliero cosa serve? serve raccomandare a chi sta vicino di stare attento di sorvegliarlo un po' di vedere che non succeda niente di strano nei giorni successivi e nel caso di riportarlo a far vedere poi ci sono quelli a rischio intermedio che sono orientati con frattura o disorientati senza frattura per questi pazienti può servire un'osservazione un periodo di osservazione magari anche con ricovero e in questi casi c'è da chiedersi se può servire una una cura poi la cura dovrà essere legata alla situazione particolare e servono anche accertamenti neurologici e un attacco poi si tratterà di stabilire la tempistica di quando fare l'attacco e di quando fare gli accertamenti neurologici poi ci sono invece quelli che sono ad alto rischio 1 su 4 abbiamo visto e che quindi sono disorientati e hanno la frattura in questi casi serve ricovero va tenuto subito ricovero insomma va tenuto ricoverato serve una visita neurologica urgente per valutare se ci sono magari già in atto dei segni di danno cerebrale e poi servono esami neuroradiologici urgenti tac risonanza quello che si vuole la presenza di una frattura all'esame alla radiografia semplice del cranio fa sì che il rischio di complicanze intracerebrali di complicanze intracraniche insomma del cervello salga di oltre 10 volte ed è quello che fa decidere per l'ospedalizzazione e per ulteriori indagini quindi per decidere su questo basta all'inizio una banale radiografia del cranio allora quando fare una radiografia del cranio a un malato traumatizzato quando ha avuto delle alterazioni della coscienza anche una brevissima perita di coscienza quando ha avuto una perita di coscienza e poi è rimasta un'amnesia dopo il trauma quando presenta per esempio delle ferite lacere o ematomi del cuoio capelluto quando ha subito un trauma di una certa violenza oppure ha avuto un politraumatismo oppure malati che hanno altre patologie sovrapposte dicevamo prima dei disturbi della coagulazione tiristi e così via oppure quando ci sono degli elementi che ci mettono in dubbio sull'opportunità o meno che questo malato sia ricoverato quando chiedere una visita neurologica in un malato che ha avuto un trauma cranico cerebrale subito quando c'è un trauma maggiore quindi urgenza di una visita neurologica urgenza di una visita neurologica quando c'è stato un trauma cranico maggiore oppure quando siamo di fronte a un trauma cranico minore ad alto rischio la visita neurologica è differibile si dovrà fare ma non è il caso di farla con assoluta urgenza quando il trauma cranico minore è a rischio intermedio abbiamo visto prima si può evitare la visita neurologica che invece di solito almeno ai miei tempi si faceva fare a tutti quando il trauma è a bassissimo rischio ed è la situazione l'evenienza più frequente diciamo così per cui in questo caso abbiamo visto il rischio di 1 a 6.000 non è il caso insomma di andare a cercare lesioni che hanno una probabilità di 1 a 6.000 di essersi insomma e che se ci sono poi non ci sono subito insomma quindi in questo caso la visita neurologica è inutile e perché la visita neurologica è differibile non è caso di farla subito perché nel trauma cranico minore le complicanze sono più o più a distanza di ore o di giorni e quindi la visita se la fai subito non può escludere o prevedere complicanze future no? può risultare normale e quindi uno dice vabbè vista neurologica è normale sto tranquillo no? invece è meglio sorvegliare attentamente il paziente e chiedere la visita urgente quando ci possano essere dei primi sintomi di aggravamento sorvegliare attentamente il paziente vuol dire che quel paziente con un trauma cranico minore è pressoché normale no? se si vede qualcosa che ti mette in sospetto che non sia non so sbaglia qualche parola cammina un po' peggio eccetera eccetera ecco quella cosa là va riportato urgentemente in pronto soccorso e allora è necessaria la visita urgente cosa si sorveglia come nel trauma cranico minore so che il paziente che ha avuto un trauma ma il trauma è abbastanza banale però abbiamo sempre il sospetto che ci possa essere una complicazione futura su cosa concentriamo l'osservazione sullo stato di coscienza sull'andamento dello stato di coscienza nel tempo vedere che sta sempre a vigere non sonno lento che non tende ad addormentarsi tutte le ore del giorno e che poi se lo svegliamo magari non si risveglia subito che non compaiono segni neurologici banali tipo paresi disturbi del linguaggio assimmetrie della fazza la bocca un po' storta che le pupille rimangano dello stesso diametro poi vabbè insomma il polso la pressione la respirazione l'importanza è sempre quella di cogliere i primi sintomi di un eventuale aggravamento perché in questi casi si fa tempo a intervenire poi nei traumi cranici minori ci possono essere dopo un trauma cranico anche abbastanza banale ci possono essere delle sequele a distanza ci possono essere dei disturbi che rimangono dopo un certo tempo dopo un trauma cranico quindi quali sono questi disturbi sono disturbi soggettivi che non sono riconducibili a lesioni dimostrabili sono disturbi diversi da quelli descritti in un aggravamento come abbiamo visto prima la coscienza è sempre integra e questi disturbi diciamo che avvengono un certo tempo dopo un trauma cranico anche minore eccetera eccetera spesso sono anche questo causa di visite specialistiche che per lo più sono inutili quali sono questi disturbi sono di solito cefalea un po' di mal di testa vertigini del sindrome vertiginose si chiamavano stornità nausea qualche conatto di vomito senso di confusione ma non tanto confusione quanto sentirsi la testa confusa non essere proprio poi disturbi soggettivi della memoria no la sensazione di non ricordare bene i nomi queste cose qua ecco queste sono dei disturbi che possono accompagnare anche a distanza un trauma cranico minore trauma cranico che non abbia dato delle lesioni cerebrali abbiamo già visto l'amnesia globale transitoria post-traumatica ne abbiamo parlato prima i traumi cranici maggiori invece come abbiamo visto sono quelli che determinano delle lesioni che diciamo possono essere in qualche modo reversibili quando riguardano quelle raccolte di sangue ematomi subdurali diciamo difficilmente reversibili cioè nel senso che lasciano esiti perché c'è perdita di sostanza cerebrale quando si tratta di lesioni contusive ripeto che la contusione cerebrale è un focolaio di necosi amorlasica cioè c'è uno strappamento una lacerazione c'è una perdita un danno perdita di neuroni insomma di cellule cerebrali c'è questo danno sangue che stravasa il sangue può anche come dire raccogliersi in focolai più grossi all'interno del cervello e quindi dare delle raccolte degli ematomi intracerebrali per il fondersi anche di più contusioni le contusioni spesso possono essere multiple ed evolvere diciamo si aggravano nei giorni successivi al trauma la pressione endocranica aumenta molto in presenza di contusioni cerebrali li consegue quando quando queste lesioni interessano anche il tronco cerebrale direttamente o indirettamente cioè per compressione dall'esterno perché è dannezzato direttamente il tronco cerebrale possono come dire possono condurre per esempio al coma e quindi alla necessità di di un'assistenza respiratoria e quindi della rianimazione l'evoluzione dipende con l'andare del tempo le contusioni se il paziente sopravvive le contusioni tendono a ridursi a cicatrizzare in qualche modo e a quel punto là c'è una perdita si vede una perdita di sostanza cerebrale cioè si verifica quando si va a fare l'attacca si vede un quadro di atrofia cerebrale insomma i ventricoli diventano allargati gli spazi suddurali ingrandiscono ad anni di questo tipo poi ad anni dovuti anche per esempio all'iposia cerebrale creata dall'ipertensione endocranica quindi dalla diminuita perfusione cerebrale in seguito anche all'ipertensione endocranica si può assistere al venir meno diciamo di determinate funzioni corticali quindi un esito possibile di questi traumi può essere il coma vigile quei pazienti che poi recuperano le funzioni del tronco cerebrale cioè la respirazione autonoma la deglutizione queste cose qua però rimangono sempre in uno stato di coma riprendono determinate funzioni riflesse a volte sembrano anche guardare sembrano osservare ma con questi pazienti non è possibile un contatto c'è la perdita soprattutto della corticalità in altri casi invece quando ci assistono a quelle complicazioni come l'ernia transtrentoriale oppure il danno interesse del tronco cerebrale in maniera diretta o indiretta allora c'è diciamo così c'è il rischio di non riprendere le funzioni neurovegetative quindi la regolazione termica tutte queste cose qua la respirazione autonoma e quindi il paziente rimane in uno stato di coma che tende poi a perdurare nel tempo per quanto chissà insomma questo dipende dal danno sicuramente insomma nei primi giorni è importante quando siamo di fronte a un trauma cranico grave con contusioni con collisioni cerebrali importanti è importante mantenere l'equilibrio di tutte le funzioni vitali artificialmente no l'espulazione artificiale tutto quello che ci va dietro in una rianimazione però è chiaro che se il paziente non riprende autonomamente nel giro di pochi giorni insomma almeno una funzione respiratoria o un minimo di vigilanza autonomo man mano che perdura lo stato di coma assistito l'intubazione man mano comincia a subentrare poi il rischio di complicanze no il paziente rimane in una sezione completamente gestita dall'esterno completamente dipendente insomma senza movimenti senza vigilanza senza capacità di respirare quindi cominciano a formarsi le secrezioni che vanno pulite e poi nelle rianimazioni ci sono i jarmi particolarmente particolarmente selezionati dal punto di vista della loro patogenicità c'è il rischio di decubiti c'è il rischio di complicazioni emboliche insomma è chiaro che la preoccupazione è sempre quello di tirar fuori dallo stato di cercare di far riprendere la coscienza di far riprendere almeno alcune funzioni autonome il più presto possibile insomma perché se all'inizio è bene che la cosa non peggiori ma se la cosa è già al limite del peggioramento oltre il quale ci può essere la morte più dura questa situazione dopo alcuni giorni più diciamo le probabilità di un recupero diminuiscono il discorso che le situazioni sono stabili va bene per un certo tempo anche non troppo lungo dopo il trauma ma dopo il paziente deve riuscire in qualche modo a dare dei segni di ripresa a volte possono essere anche dei segni anche piccoli però deve dare dei segni di ripresa altrimenti diciamo più perdura una situazione di stasi completa più nel tempo il rischio di complicanze il rischio di un danno permanente o addirittura dell'esito finale insomma aumenta quindi sono pazienti che hanno questi dei traumi cranici maggiori hanno davanti un lungo percorso bene che vada insomma molto molto lento difficilmente quando c'è un quadro di contusioni cerebrali multiple come dire c'è un qualcosa c'è un risveglio assiste a un quando ci sono dei segni di ripresa a una progressiva molto molto lenta nel tempo e lì bisogna vedere insomma bisogna vedere il deficit se si formano paralisi come sono come sono le risposte al movimento se riprende la parola se riprende un attimo di lucidità a riconoscere sono tutte cose che avvengono molto molto lentamente nel tempo con un lungo lavoro e il rischio poi di una broncopolmonite finale così è sempre è sempre presente insomma no perché immaginatevi un paziente di rianimazione continuamente con il con il sondino a pulire le secrezioni eccetera quindi qualcosa che entra sempre in una situazione e poi ci sarà un momento in cui dovrà abbandonare se si riprende se tutto va bene sarà un momento in cui dovrà anche abbandonare la rianimazione allora nel passaggio dall'abbandono della rianimazione a un reparto insomma di semi intensiva anche lì diciamo così c'è una fase di rischio e di pericolo insomma perché le rianimazioni sono pronti nel momento in cui si alleggerisce l'anestesia a riprenderla insomma a rimettere il tubo ma fuori nel momento in cui ha una difficoltà respiratoria insomma non è più così automatico dopo questa fase se tutto va bene ci sarà una fase di rieducazione motoria che cercherà di portare al recupero diciamo al massimo recupero possibile però quando ci sono contusioni multiple c'è uno stato di coma che dura molto tempo la possibilità di una ripresa della corticalità quindi delle funzioni insomma anche della cortezza quindi delle funzioni dell'intelligenza eccetera è sempre molto ridotta insomma uno difficilmente rimane come prima quando riprende essere come prima quando ha avuto dei danni quando ha avuto dei danni importanti insomma quando ha avuto contusioni cerebrali multiple per riassumere insomma no traumi cranici maggiori lesioni cerebrali già presenti al momento subito dopo il trauma insomma no storia che spesso come dire è segnata dalla paralisi dal coma o da una riduzione dello stato di coscienza da e quindi spesso la necessità di cura di spesso anche di rianimazione e così via ma comunque le lesioni sono già presenti all'inizio e quindi tutto il discorso è fatto di cercare di sostenere perché per il cervello poco si può fare ecco le lesioni chirurgiche diciamo così sono gli ematomi gli ematomi subdurali e gli ematomi extradurali soprattutto gli extradurali sono quelli che richiedono un impegno chirurgico urgente rispetto alle contusioni cerebrali ai focolai di rianimazione o gli ematomi intercerebrali la chirurgia può fare può fare poco insomma a volte in casi di grande ipertensione endocranica legata alle contusioni si cerca di da spazio cioè si si asporta una parte di osso in modo tale che il cervello possa un po' espandersi ma sono sempre dei tentativi che così fatti un po' in extremis insomma sono sono delle ultime razze insomma nel tentativo di salvare questo paziente però sono non sono mai delle cose di scelta quindi trauma cranico maggiore bisogna cercare di assistere di rimuovere le complicanze che possono diventare chirurgiche insomma e poi cercare di sostenere le funzioni vitali finché il cervello un po' alla volta possa recuperare quello che può recuperare però si assiste comunque a una perdita una perdita di sostanza cerebrale che a secondo la localizzazione dove sono queste contusioni determinerà determinate danni e determinati deficit successivi insomma e poi cercare di evitare tutte le complicanze legate alla degenza allo stare a letto alla completa dipendenza che sono sempre lì in agguato insomma quindi sono cose che quando si riprendono si riprendono molto lentamente non si assisterà mai difficilmente con un quadro di contusioni dopo un coma che dura settimane in uno stato di intubazione e così insomma una ripresa drammatica insomma ci sarà se ci sarà una una ripresa molto molto lenta molto sofferta con degli esiti che sono sempre imprevedibili insomma un saluto un saluto un saluto Grazie a tutti